Questa è la storia di uno studente e della sua aggressione, avvenuta in uno dei posti che dovrebbero rappresentare la sicurezza e la crescita di un giovane, la scuola. Emanuele ha 14 anni e il 4 ottobre è stato aggredito e picchiato brutalmente davanti al suo istituto, a Castrolibero, Cosenza, a ridurlo in condizioni disumane un altro studente che lo ha lasciato sull'asfalto in una pozza di sangue. Nonostante l'omertà iniziale, l'aggressore, uno studente di 16 anni, ha confessato alla propria famiglia l'accaduto e immediatamente è stato denunciato alle forze dell'ordine dai suoi stessi genitori. Il padre dell'aggressore ha scritto una lettera che riassume il sentimento di dolore e sconfitta della propria famiglia. Da quello stesso istante il mondo ci è crollato addosso, con una sola certezza, quella di dover informare le forze dell'ordine. Il fatto, da qualunque angolazione lo si guardi, è di gravità inaudita e, se possibile, è ancora più grave per me e mia moglie, che stiamo vivendo il dramma di un fallimento. Alla madre e al padre della giovane vittima giunga il senso più profondo del nostro dolore per l'accaduto, che è solo l'altra faccia di una stessa medaglia. Con la legge sul bullismo si sono dettate delle linee per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. Attraverso la modifica dell'articolo 25 al bullo vengono applicate alcune misure che il Tribunale dei minori adotta normalmente nei confronti di ragazzi problematici che risultano irregolari per condotto o carattere. Come potrebbero muoversi le istituzioni scolastiche in tal senso? La nostra redazione ha intervistato la madre di Emanuele, Adele Sammarro, docente e segretaria nazionale con fasi scuola, che in qualità di insegnante e mamma ha voluto dare il suo punto di vista sulle scene di bullismo a scuola. Siamo in presenza di un tentato omicidio, che è una cosa gravissima, che tra ragazzi e adolescenti non dovrebbe mai accadere una cosa simile, perché naturalmente questo avrebbe comportato, se mio figlio non fosse caduto addosso ad un compagno che era appoggiato al muretto, lui sarebbe morto all'istante, quindi oggi non avremmo raccontato l'epilogo di questa vicenda con la testimonianza del padre, ma avremmo raccontato tutt'altro. La cosa che più mi ha lasciato basita e sconcertata è stato proprio il silenzio assordante di tutta una comunità che naturalmente sapeva di chi era presente all'uscita di scuola e nessuno ha voluto parlare, nessuno ha avuto il coraggio di denunciare. Questo è un aspetto molto triste, un aspetto naturalmente che è di tendenza omertosa e che all'interno di una comunità scolastica non dovrebbe esistere, anche perché sappiamo che la violenza è figlia dell'anticultura e quindi se non si ha il coraggio di denunciare naturalmente si tende a favorire delle situazioni simili, delle situazioni naturalmente che potrebbero degenerare in qualcosa di più pericoloso. Per cui noi come docenti, io come educatrice e come mamma abbiamo il dovere di educare alla cultura della denuncia, altrimenti non ci potrà mai essere una forma di riscatto. Quindi la mafia e la violenza sappiamo che si eliminano abbattendo proprio il muro del silenzio, per cui deve essere un esempio il fatto di avere il coraggio di denunciare.